Pronto? Buonasera. Dottore, buonasera, come stiamo? Ma ce le ha le pratiche? Sì, 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 sì. Mi vado a ritirare tutte le cose e subito ci porto, vedo. Perché poi ce lascio pure in più a lei. Siamo indietro. C'è abbastanza che siamo indietro, dottore Peppa. Un bel po' ci sono, dottore Peppa, non si preoccupa. Va bene, non si preoccupa già. Pronto? Dottore Peppa, buonasera. Non si preoccupi, in questi giorni domani dopo domani dovrei avvicinare io da lei, dottore Peppa. Ma recuperiamo o no? Sì, sì, abbastanza, dottore Peppa. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma non si preoccuparsi che se recuperiamo buono se recuperiamo. Vabbè, vabbè. 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 Vabbè, vabbè.